Oggi Dire Donne affronta un tema di cui si sente parlare sempre di più, l'oncofertilità, la preservazione della fertilità in giovani donne che ricevono una diagnosi di tumore o anche di altre patologie e devono preservare la loro possibilità di diventare madri dopo la malattia. Abbiamo incontrato nel nostro percorso di approfondimento diverse testimonianze, diverse storie e nei nostri studi abbiamo Laura, che ringrazio di essere qui, che ci racconterà della sua storia, una storia che deve essere una storia di speranza ma una storia che come vedrete ci parlerà anche delle difficoltà incontrate su questo percorso. Se ne parla sempre di più ma se ne parla sempre bene, è proprio questo quello che chiederemo a Laura, che nella sua storia ha poi avuto anche la fortuna di incontrare un'associazione che si occupa e che è nata per lavorare su questo tema, l'associazione Gemme Dormienti, che sabato all'Aquila aprirà una nuova sede oltre a quella romana. Oncofertilità vuol dire diverse tecniche che rendono possibile la preservazione della fertilità di una donna, anche di un uomo, in questo caso ci occupiamo della donna, o attraverso la preservazione del tessuto ovarico o laddove possibile con la stimolazione ovarica e la crioconservazione degli ovociti. La mia storia inizia nel 2015, fine 2015 a novembre, diciamo per tutto il mese di ottobre non mi ero sentita bene, sostanzialmente avevo molta difficoltà a respirare, non riuscivo poi negli ultimi giorni di ottobre proprio a dormire supina appena mi mettevo, ma anche se andavo dall'estetista insomma, quella mezz'ora mi affannavo, mi affannavo molto e da lì diciamo che io essendo un po' del campo, perché sono una dontoiatra, ho capito che dopo antibiotici, broncodilatatori, tutti prescritti dal medico di famiglia e non migliorava nulla, ho capito che c'era qualcosa che non andava, anche perché mi si gonfiavano le mani, il viso, la mattina mi alzavo gonfia con una tosse stizzosa e quindi di mia spontanea volontà la mattina che dovevo andare a fare le prove allergiche, perché si sospettava a quel punto un'allergia a qualcosa, al lattice del letto, il memory, invece di andare a fare le prove allergiche andai in pronto soccorso, un po' presa, tante volte sono le occasioni della vita, il fatto che in famiglia mi sembrava non mi ascoltassero, allora quella mattina che mi sentivo particolarmente affannata, ognuno aveva fretta e mi sono sentita sola e quindi ho detto bene, prendo la situazione in mano io, vado in pronto soccorso e da lì è iniziato un po' il tutto, perché poi la dottoressa lì ha capito al volo che c'era da fare un Rx dorace, che molto probabilmente il mio medico di famiglia poteva capire prima di fare, comunque ho fatto questo Rx dorace e è venuto fuori da subito, insomma questa massa mediastinica, molto grande, di circa 12 cm occludeva tutto, le vie respiratorie, quindi da lì è iniziata un po' la mia storia, è iniziata la grande ricerca a dare un nome alla malattia, perché poteva essere un timoma oppure un linfoma, prima di avere la diagnosi è passato molto tempo. Quanto? Un mese e mezzo, io ero un linfoma non Hodgkin, in stadio avanzato, un quarto stadio, e diciamo che a quel punto c'era fretta, fretta di iniziare le cure. Parliamo di chemioterapie? Di chemioterapia, ho fatto anche la radioterapia, sia sulla massa che a livello invece preventivo, a livello encefalico, perché lo prescrive lo schema poi che ho fatto. Un protocollo molto lungo, che sulla carta sarebbe dovuto durare un anno, ma poi tra le varie, gli abbassamenti di difese immunitarie, le febbri, le cose, eccetera, è durato molto di più. Io sono stata due anni e mezzo senza poter lavorare, perché ovviamente a contatto con le infezioni, l'odontoiatra assolutamente non la potevo fare, c'era chi magari faceva l'architetto e da casa poteva, però per me non è stato così, quindi ho vissuto in una bolla per due anni e mezzo, una bolla tra casa, divano, divano, casa, qualche uscita, qualche volta nei periodi migliori, però oggi sono qui per dire questo, che io avrei avuto tempo per crioconservare se solo qualcuno me l'avesse detto. Ecco, questo è importante. Perché io in quel mese e mezzo, dal 17 novembre che andai in ospedale, in pronto soccorso, al 23 dicembre, che poi ho avuto la diagnosi definitiva e poi ho iniziato subito dopo Natale, ma proprio subito le prime chemio, poi mi sono sgonfiata, sono stata subito meglio paradossalmente con le chemio e questo proprio ti fa capire, io ho capito su me stessa quanto una chemio ti possa far bene in quei momenti. Comunque, se qualcuno me l'avesse detto, io avrei avuto il tempo, tutto il tempo per fare una crioconservazione, perché si fa la stimolazione e poi l'interventino non è una cosa semplice, però a me nessuno l'aveva detto. O meglio, me l'hanno detto alla fine, un'amica così, io mi ero informata presso una clinica privata e io avevo appena iniziato a fare questo percorso, quando mi hanno chiamato dall'ospedale, dal Gemelli, che avevano un nome finalmente della mia malattia e quindi il giorno dopo mi sarei dovuta ricoverare. Io chiesi, posso continuare a fare questo percorso? E lui mi fu risposto dall'ematologo che no, non c'era tempo, io mi dovevo iniziare a curare tempestivamente, perché era una situazione avanzata e comunque lo capivo anche dal punto di vista respiratorio, ormai ero molto molto in affanno e quindi lasciai perdere. All'inizio della stimolazione non la portai a termine e devo dire che per me questo ha rappresentato comunque una ferita dentro di me, che ho portato avanti per tutto il periodo delle cure, perché... Ce la puoi spiegare bene, perché è una ferita? Sì, una ferita perché se io avessi avuto, diciamo, la tranquillità mentre mi curavo di aver crioconservato i miei ovociti, l'avrei affrontata in maniera ancora migliore. Io da questo punto di vista sono stata forte, non sono stata una che si è pianta addosso, l'ho presa bene, questo me l'hanno detto tutti gli ematologi, tutti i medici, che comunque la testa fa tanto come l'affronti. Però avevo questa morte dentro di me, una piccola parte della mia testa, che pensava sempre, molto probabilmente non potrei avere figli. Quindi la speranza di poter prendere i tuoi ovociti, che erano sanni, e mi ricordo che quando iniziai a fare la stimolazione comunque mi dissero che ce ne avevo tanti, cioè... Era una situazione positiva. Era una situazione rigogliosa, positiva, di una ragazza comunque giovane, di 27-28 anni. E quindi pensavo sempre a questa cosa, pensavo sempre se li avessi presi, se qualcuno me l'avesse detto. Poi non ne parlavo con nessuno perché, figurati, con i miei familiari avrei aggiunto dolore a quello che stavano vivendo, standomi attorno. E quindi poi, insomma, ho continuato a curarmi. Per fortuna io ho avuto una risposta ottima alle cure. Cioè io nel giro di 2-3 mesi già la massa si era ridotta di tantissimi centimetri, cioè si è visto fin da subito che le cure andavano bene. E nel giro di pochi mesi ero in remissione. Però io dovevo continuare perché così era lo schema, il protocollo e quindi sono andata avanti. Una volta finite, nel frattempo facevo le nantone, che è il farmaco che ti mette a riposo le ovaie per, appunto, diciamo, proteggerle. Anche se dentro di me ci credevo poco. Credevo poco a questo nantone. Dicevo, vabbè, chissà che ti fa con tutte le bombe che mi stanno facendo. Io ho fatto veramente tanta, tanta chemio. Il mio biatologo mi disse, dobbiamo sorprendere la malattia da ogni lato. Quindi tanti farmaci, quasi tutti i giorni. Tra l'altro il gemelli mi stava anche lontano ogni volta con le nausee, il mal di testa, un'ora di macchina andare a venire. Veramente è un periodo nero. Però va bene, andava bene, la risposta c'era. Poi, diciamo, sono arrivata alla fine, dopo tanto, e diciamo gli ematologi non mi avevano dato grosse speranze che mi sarebbero tornate le mestruazioni. Cioè, me l'avevano fatta molto scura, molto nera. E invece? Invece sono tornate. Dopo poco che ho smesso le nantone, sono tornate. Sono una speranza per me. Però, diciamo che penso sempre a quella cosa, pensavo sempre a quella cosa che non avevo fatto. A quel punto ho contattato ugualmente Gemme Dormienti. In realtà l'ho contattata non sapendo di poterla fare ancora la crioconservazione, la stimolazione. Pensavo soltanto a farmi visitare. Poi ho conosciuto la dottoressa Maria Vita Ciccarone e lei mi ha esortato invece a farla. Diciamo, a fare tutte le ecografie, a fare la contattazione degli ovociti, eccetera, presso, insomma, i professionisti di cui lei si avvale. e tra l'altro gratuitamente, che questo è tantissimo in questo campo, perché è un campo molto, molto costoso. E diciamo che, come dicevo prima, gli ovociti non erano gli stessi, ne erano molti di meno. C'era stata una riduzione. C'era stata una riduzione. Però qualcosa c'era e quindi Maria Vita mi ha mandato a Milano e ho fatto la conservazione. Hai fatto la conservazione degli ovociti o la preservazione del tessuto barco? No, degli ovociti. Degli ovociti. E diciamo che... Hai un tesoretto. Ho un tesoretto, sì. Questo non esclude, però Laura, diciamolo anche per chi ci ascolta, che tu possa rimanere incinta naturalmente, come succede a molte persone dopo un tumore. Sì, esatto. Infatti, comunque, anche Maria Vita, la ginecologa, mi ha rassicurato in questo senso, nel senso che lei dice che finché c'è il ciclo c'è speranza. Quindi, anche se in realtà hai meno ovociti, non è che te ne servano tanti. Basta uno. Ne basta uno ad essere fecondato. Uno buono. E quindi lei dice che c'è speranza, che io non mi devo abbattere, che comunque, certo, non perdere troppo tempo, infatti dice che mi devo trovare un fidanzato al più presto, perché ovviamente mi sono lasciata come succede in queste situazioni. E quindi, diciamo che io oggi voglio sottolineare questo aspetto. Facciamo, allora, un appello per chi ascolta la tua storia. Io, più che alle pazienti, voglio fare un appello ai medici, perché le pazienti purtroppo sono prese dal cercare il nome per la loro malattia e a iniziare a curarsi, perché in quei momenti non pensi a tante cose, sei completamente frastornato e tra l'altro non sai se continuerai a vivere, quindi non ci pensi. Il medico invece che ti ha davanti, che sia un ginecologo, un ematologo, un oncologo, ma anche un medico di famiglia, ci deve pensare, perché se non ci pensa lui non te lo dice lui, tu non ci penserai facilmente. E quindi, secondo me, la responsabilità è più dalla parte dei professionisti, perché purtroppo oggi siamo un po' in medicina, siamo tutti ormai settorializzati, ognuno pensa al proprio, cioè l'ematologo pensa a curare, lo fa bene, ma pensa a curare, il ginecologo pensa a quello, il medico di base. Sì, insomma, a dare una diagnosi iniziale, però bisognerebbe avere una visione più ampia della persona, perché una volta che guarisci, anche la speranza di avere un figlio, perché magari non lo vorrai neanche avere, però tu sai di poterlo fare. Continuerai il tuo impegno con questa associazione al fianco delle pazienti e se parteciperai sabato all'inaugurazione di questa sede? Sì, io adesso, grazie a Dio, sto bene per rispondere anche alla tua domanda di prima. Faccio ormai, mi sembra strano dirlo, perché praticamente stavo sempre al gemelli, ma adesso ci vado ogni sei mesi dall'ultimo controllo. E quindi questo, insomma, mi dà la forza per aiutare chi invece lo sta intraprendendo questo percorso, si sente frastornato come mi sentivo io. Apriremo questa sede all'Aquila, c'è l'inaugurazione il primo febbraio alle 16, al centro direzionale Estrinella 88. E quindi, diciamo, parleremo un po' di gemme dormienti per farla conoscere e soprattutto promuovere il passaparola. Laura, io ti ringrazio per aver condiviso la tua storia con noi. Ti auguro di avere il meglio di tutto quello che sogni e di coronare il sogno di un figlio, se sarà quello che sceglierai. Grazie a tutti.